Ora chiedo all'Avvocato Sutti di salire sul palco, sarà lui a moderare la sessione sulle strategie dei fondi immobiliari, la prima delle due. I relatori stanno salendo, questa è una delle sessioni principali, semplicemente perché gran parte degli investimenti si muovono tramite i fondi stessi, quindi quello che faranno le SGR come esecutrici delle strategie dei vari fondi influenzeranno il mercato. E qui chiediamo all'Avvocato Sutti di prendere in mano la situazione. Ne approfitto per un minuto per una cosa che ci riguarda come monitor immobiliare. La notizia è uscita sulla stampa, quindi di dominio pubblico, abbiamo monitor immobiliare e detiene il 2% circa delle azioni del Sole 24 ore. Non è niente di epocale, semplicemente riteniamo che sia a nostro avviso un buon investimento e soprattutto il tentativo, la nostra disponibilità, se ce ne fosse bisogno, se qualcuno lo dovesse chiedere, di fornire le nostre umili competenze a un canale editoriale importante. Quindi ecco, questo è da una parte un investimento, dall'altra un'operazione per consolidare la nostra attività auspicando delle collaborazioni. Niente di più, non ci sono fondi strani dietro. Vediamo che cosa succederà, ma in punta di piedi con la massima umiltà. Questa precisazione è per guadagnare tempo e passo la palla all'Avvocato Sutti che ci introduce il panel. Buongiorno a tutti, direi di procedere subito invitando i relatori a raggiungerci. Abbiamo un partire d'erroire in questa sessione, per cui li conoscete tutti. Non penso sia necessaria l'introduzione, comunque Gian Piero Schiavo, Giovanna della Posta. Rao Ravara, Emanuele Canigia, Riccardo Serrini e Paolo Bottelli. Direi che entriamo subito in media stress perché abbiamo uno slot abbastanza compresso e abbiamo tanti relatori e vorremmo avere la possibilità di sentirli tutti. Il tema dell'intervento è la strategia 2022 dei fondi immobiliari. Partiamo da quello che è successo nel 2021, che è stato un anno sicuramente interessante, anche se sentendo con il preparatore che abbiamo avuto ieri qualcuno dei panelist, oggi il mercato è ancora un mercato abbastanza piccolo, quello italiano, con 10 miliardi di transazioni, che sono sicuramente un buon risultato per il 2021, ma andando avanti probabilmente mi sembra di capire che l'aspettativa è che il mercato possa crescere per una serie di motivi. Abbiamo cercato di vedere anche quali sono le evoluzioni prospettiche nelle varie asset class, in modo tale da cercare di dare una copertura a 360 del settore. Io inizierei subito partendo con Emanuele Canigia. Emanuele, il 2021 è stato un anno sicuramente interessante, il 2022 sembra che confermi a meno come trend quello che è successo nel 2021. Quali sono le vostre previsioni e le aspettative in generale sul mercato? Buongiorno a tutti, intanto ringrazio Maurizio per l'organizzazione del convegno che è sempre interessante. Chiunque faccia previsioni secondo me si prende degli azzardi importanti, quindi un'analisi del 2021 è presto detto, è stato un anno che mi ha stupito perché pensavo ci fosse un rallentamento più evidente del mercato, proprio in funzione del fatto che il 2020 è stato un anno molto difficile perché eravamo tutti impreparati al famoso Taleb, direbbe, al cigno nero, quindi a quello che è successo con il Covid, l'hot down, eccetera. Quindi è stato molto difficile preparare i deal per il 2021, perché noi lavoriamo sempre anno su anno. In realtà poi invece è andato molto meglio di quello che ci aspettavamo tutti, le transazioni sono state, il mercato si è mosso, poi il mercato italiano è piccolo, ma non mi piacerebbe tanto dare colpo al Covid, ma in realtà era piccolo anche prima del Covid, quindi non è che abbiamo cambiato moltissimo. Lì dovremmo ampliare le asset class per riuscire a ingrandirlo e soprattutto coinvolgere un altro tipo di investitori che oggi è assente nel nostro mercato, che sono tutti investitori del mondo privato, retail. Il 2022 si preannuncia comunque un anno interessante, un anno interessante perché ha in sé una serie di sfide, sfide sull'asset class e anche sulla regionalizzazione degli investimenti. Oggi, negli ultimi anni ci siamo concentrati molto su Milano, adesso ci stanno aprendo anche altre possibilità in altre città, probabilmente ci sono stati anche dei campi di amministrazione che riescono un po' ad accelerare in un processo evolutivo degli investimenti, quindi è interessante vedere anche come si muoveranno tutti gli investitori sulle varie regioni, sulle varie possibilità che si stanno affacciando. Asse class un po' dimenticate, che possono essere recuperate e ripensate, che comunque oggi tradano a valori sicuramente interessanti, mi riferisco ai centri commerciali, piuttosto che al mondo retail in generale. Il residenziale, se ne parlerà dopo, ma insomma è sicuramente una seccasa alla quale stiamo guardando tutti, con tutti i punti interrogativi che abbiamo e con tutte le difficoltà normative che si dicevano anche nell'introduzione del convegno. Però è indubbiamente il grande assente del nostro mercato, cioè se in Germania si fanno 80 billion è perché 60 sono fatti da residenziale. Noi come abbiamo visto, si e no, facciamo 500 milioni e di questi 500 milioni non sono neanche investimenti stabili, perché noi stessi come Dea Capital facciamo investimenti residenziali, ma facciamo investimenti dove compriamo, frazioniamo e vendiamo. Quindi non c'è nulla di stabile, è molto opportunistico, e molto da trader e non da investitore tipicamente istituzionale long term. Quindi se si riesce ad aggiustare il tiro e a cambiare questa mentalità sul mondo residenziale probabilmente il nostro mercato cresce come volumi. Ci sono altre asset class che comunque sono interessanti da tempo e sono state scoperte anche da investitori forse prima di tutti. Paolo sulla sua logistica è stato sicuramente il pioniere, ha aperto un mercato ed è riuscito comunque a farcelo apprezzare un po' a tutti. Poi abbiamo seguito tutti un po' la sua linea e probabilmente come la logistica ci sono oggi tutto il mondo sanitario, tutto il mondo degli ospedali, ci sono diverse asset class che stiamo studiando. Per questo dico che sarà un anno interessante, perché è un anno in cui i capitali si allocheranno non solo sugli uffici, come è stato forse nel recente passato, ma anche su altre asset class un pochino diverse e che hanno delle caratteristiche forse più industriali come sottostante e quindi con competenze anche da sviluppare molto interessanti anche dal punto di vista di asset management. Direi questo è un po' il quadro generale. Grazie Emanuele. Grazie Giovanna. Diciamo il mondo del pubblico, l'eterna promessa che piano piano si sta verificando, ma siamo ancora molto lontani dalle aspettative di ricreare quel volume di cui c'è un potenziale, ma che oggi non viene rilasciato, se vogliamo. Qual è la tua visione? Allora, io ormai sono tre anni che studio il patrimonio pubblico e quindi posso dire che l'ho analizzato un po' in tutte le sue sfaccettature. Se parliamo di residenziale, consideriamo che sui circa 300 miliardi di euro che sono stati inventariati, ce ne sono 50-60 miliardi che sono etichettati come abitativo. Ora, questo abitativo addirittura può essere in uso alla pubblica amministrazione. Immaginate che ci saranno anche gli alloggi dei ministeri, insomma anche forme di questo tipo, ma insomma 50-60 miliardi di abitativo pubblico, un numero straordinario. Allora, noi abbiamo dimostrato con una piccola operazione che il patrimonio pubblico può arrivare sul mercato e può essere proprio marketable. Quindi possiamo fare dei progetti che sono appealing per gli investitori. Però ecco, è una strada, è un prato verde. Cioè ti accorgi che ti allontani, più corri e più c'è da fare e più trovi cose. Quindi sicuramente stiamo ragionando su come fare volume. Il vero problema è che in passato si è pensato di fare i volumi, però non si è fatta la qualità della dismissione, non si è pensato in qualità. E quindi abbiamo avuto sul mercato degli esempi sbagliati di dismissioni mobiliari pubbliche. Oggi un po' quello che diceva anche Canigia, noi stiamo lavorando, noi possiamo essere un investitore di lungo periodo, noi possiamo essere un investitore che entra con un capitale paziente. non abbiamo un approccio speculativo, abbiamo una serie di caratteristiche che guarda un po', si sposano proprio con il residenziale di cui ne abbiamo una quantità pazzesca. Ed è per questo che è nato il progetto Beatrice, dopo il progetto Dante, che è vero che fa senior living, ma noi ci siamo completamente discostati dal modello gestore, dal modello diciamo RSA-like. Noi facciamo un abitativo servito, un abitativo con servizi. Io sono sicura che gli investitori apprezzeranno questo modello, potranno investire su questo modello e essere accompagnati con un capitale paziente. Questo è l'obiettivo. Quindi si può fare nel pubblico, però prima di fare i volumi dobbiamo lavorare davvero sui modelli e sulla qualità, perché se no, se puntiamo ai volumi, come è successo in precedenza, corriamo il rischio di immettere sul mercato delle cose che il mercato poi respinge. Pensate a tutte le operazioni ship che sono andate male, no? E quindi è un po' questo il nostro obiettivo, la nostra visione. Noi stiamo lavorando sulla qualità, sui processi, sull'affidabilità del pubblico, sul rispetto delle scadenze, tutte quelle cose che ci hanno detto, che hanno detto a me quando sono arrivata, che non c'erano. Quindi una volta che la qualità sarà giusta potremo costruire anche i volumi. Grazie Giovanna, poi abbiamo l'occasione sicuramente di tornare un po' a approfondire il tema. Io passerei la palla a Riccardo Serrini. Guardiamo qualche asset class più in dettaglio. Magari Riccardo, ne abbiamo parlato prima, cominciamo a parlare di logistica? Sì, grazie Federico, grazie di avermi invitato a parlare di immobiliare, perché se no poi alla fine si parlava sempre di crediti, e invece noi abbiamo un DNA, il gruppo Prelios è un DNA immobiliare sempre molto forte. Beh, la domanda è la più semplice, perché la logistica è l'asset class più sexy del momento e lo è stata negli ultimi due anni e lo sarà anche nel prossimo anno, a meno che quest'anno sicuramente, ma anche negli anni a venire. Per un semplice fatto, che ci sono grandi flussi di capitali che vogliono investire in logistica, in logistica in un paese dove l'inserimento della logistica all'interno dell'infrastruttura è ancora abbastanza indietro. Adesso stavo guardando ultimamente anche i dati relativi all'e-commerce. Quello che viene venduto in Italia tramite e-commerce è cresciuto molto, più o meno al 20% all'anno, ma è circa l'8% del totale delle vendite. Quello che viene venduto negli Stati Uniti, in Cina o in Inghilterra è torno al 20%. Perciò probabilmente i comportamenti del consumatore italiano non saranno come quelli degli statunitensi o quelli dei cinesi o quelli degli inglesi, però sicuramente la crescita ci sarà. Noi operiamo tramite quattro piattaforme, abbiamo investito circa un miliardo di euro e abbiamo in sviluppo circa un milione di metri quadri di progetti. Siamo prevalentemente rivolti allo sviluppo di progetti anche speculativi perché poi alla fine è una delle asset class dove si trova ancora la materia prima che sono sostanzialmente i terreni vicino logicamente a svincoli o comunque vicino a posti dove la logistica funziona. Poi investiamo sia nel mondo della logistica diciamo così tramite hub insomma la logistica un po' più tradizionale sia in logistica dell'ultimo miglio e anche in urban logistic che sta diventando molto interessante. La cosa fondamentale è che guardando i rendimenti uno dice ma come fa un investitore istituzionale soprattutto anche se è almeno value added non dico opportunistico a pensare di investire in asset class che sono non lontani dal 4% come prime yield. Il fatto è appunto relativo alle potenzialità di crescita e di capital appreciation che si possono avere tramite l'incremento degli affitti perché oggi più o meno gli affitti sono sulla logistica tradizionale attorno a quanto 60 euro largo circa se si vedono mercati diciamo così più avanti e più sviluppati si arriva a ben oltre il doppio perciò le aspettative sono quelle non di investire al 3% perché probabilmente visto come sta andando l'inflazione probabilmente i tassi saliranno ovviamente in una sola direzione e perciò io non penso che tra tantissimo troveremo dei titoli di Stato che siano molto lontani da quei rendimenti perciò alla fine l'investitore istituzionale dice vabbè compro i titoli di Stato ammacco il bottone li vendo li compro evito il rischio è molto più limitato e piuttosto di andare a comprarsi della logistica perciò ecco io penso che avremo ancora un anno particolarmente particolarmente attivo e secondo me tanto arriverà anche dal mondo di stress perché diciamo così se si parte dall'acquisto del terreno è ancora un mercato che non è inflazionato grazie Riccardo passiamo un'altra classe classica parliamo di uffici ne parlerei con Paolo Bottelli a Milano c'è stata un escalation o meglio un decremento significativo dei cap rate che hanno portato alcuni trophy asset in centro a essere venduti a cap rate sotto il 3% con destinazione uffici e nonostante il covid i prezzi almeno dei cani in locazione non sembra essere scesi almeno nelle zone centrali anzi sembra che il mercato stia tenendo abbastanza bene rimane pur sempre il focus su Milano e la domanda a Paolo è anche non solo che cosa succederà e qual è la prospettiva su Milano ma anche se a Roma c'è spazio per un'offerta di un prodotto che magari oggi manca di un po' più di qualità un po' più efficiente perché vedo che mancano forse i grandi conduttori che sono presenti a Milano ma Roma è un mercato che offre anche sui servizi una domanda abbastanza interessante ma guarda al netto degli investimenti che sicuramente sono stati importanti nel 2021 con circa due miliardi e mezzo più o meno di operazioni quello che secondo me si vedrà nel 22 che già si è visto alla fine dell'anno scorso è come la scelta di un ufficio stia diventando centrale sempre più centrale delle dinamiche di sviluppo aziendale gestite dagli amministratori delegati quindi c'è stato un momento di rallentamento diciamo cinque trimestre più o meno tra il 2020 e il 2021 forte ripresa del take up alla fine del 2021 ma oggi tutti quanti abbiamo capito che gli uffici saranno comunque centrali per le aziende e in un momento in cui le aziende fanno fatica a trattenere talenti o a tirare talenti in cui tematiche come la salute come tutto quello che in qualche modo è legato all'ISG sta diventando realmente centrale non c'è dubbio che chi gestisce un'azienda in una logica di lungo termine sta realmente analizzando in modo attento come devono essere i propri uffici e quindi quello che noi crediamo che ci sarà sempre più e questo vale un po' per tutte le asset class una polarizzazione tra asset di un certo tipo e asset secondari è chiaro che oggi la tematica della sede è sempre più una priorità per appunto per gli amministratori delegati perché gestiscono le società quindi Milano secondo me sarà ripartirà in modo significativo in termini di take up c'è stata e c'è ancora molta riflessione da parte dell'azienda su come e su quali devono essere diciamo le priorità dei propri uffici ma capito appunto che il mondo degli uffici non è morto ma anzi diventa sempre più centrale vedremo una ripresa degli affitti nel corso del 2022 gli investitori si sono focalizzati nel 2021 su operazioni core come dicevi giustamente tu i tassi sono scesi in modo significativo in molti casi sono scesi con affitti che erano leggermente al di sotto di quelli che potevano essere gli affitti in quello specifico momento di mercato quindi mark to market rendimento magari un po' più alto del 3% per come lo vedono gli investitori e oggi cominciamo a vedere capitale opportunistico che si sta comunque value add che si sta riaffacciando al mondo degli uffici che è stato un po' fermo diciamo nell'ultima parte dell'anno anche a causa della difficoltà di tirare leva su questo tipo di prodotto perché oggi tutto quello che non è residenziale e logistica fa molta fatica da questo punto di vista oggi un po' le cose si stanno riprendendo quindi noi ci aspettiamo un 2022 forte anche sul tema degli immobili value add e non soltanto su immobili core per quanto concerne Roma circa un terzo del take up di Milano 150.000 contro 400 e passa 1.000 metri quadrati di Milano quello che abbiamo visto che in qualche modo è l'offerta anche a Roma che in qualche modo traina la domanda e non viceversa quindi anche lì devo dire noi ci aspettiamo seppur diciamo in modo un po' più selettivo rispetto a Milano una una ripresa degli investimenti quindi lato nostro siamo sicuramente ottimisti dopo un 2021 in cui invece erano un pelino più attenti alle dinamiche anche legate diciamo alla pandemia che in realtà poi si sono dimostrate e verificate in qualche modo positive verso questo settore grazie Gian Piero parliamo di un asset class che ha sofferto molto agli inizi del covid e poi sembrava l'anno scorso essere rinata nel senso che dopo la prima fase del covid sul mercato sono arrivati molti asset che probabilmente facevano capo a famiglie che si sono rese conto che la gestione di questi asset da sola non era più conveniente e quindi si è visto un momento di crescita che io definirei significativa nel mercato di concentrazione poi questo fenomeno negli ultimi mesi mi siamo un po' rallentato quindi come vedi il mercato nel turistico alberghiero come è stato e come lo vedi a breve nella prospettiva continuerà questo trend in consolidamento o meno? Buongiorno a tutti grazie Federico grazie Monitor Immobiliare ma allora partiamo da che cosa è stato e quali sono stati gli effetti della pandemia puoi usare stati forse un termine un po' forte perché ahimè siamo ancora nel pieno della pandemia e io non credo che voglio dire alla fine del 2022 sarà tutto risolto direi sì è l'asset class che dal punto di vista gestionale ha sofferto di più perché ovviamente con un blocco totale delle attività e con annunci repentini come è stato diciamo sotto il periodo di Natale con un crollo delle prenotazioni i gestori entrano in affanno e vanno in affaticamento finanziario molto forte dal punto di vista delle operazioni direi che dal 2019 il trend di un'attrazione di capitale su questa asset class è molto forte è molto forte ma diciamocelo molto chiaramente stiamo parlando di un mercato che per il 99,8% è un mercato assolutamente value added opportunistico ma ha una razio questa cosa qua e la razio è che tutte le operazioni che vediamo sono operazioni dove non c'è solo l'acquisto di un asset in situazioni più o meno di stress ma nella realtà è esattamente quello che è successo anni fa negli uffici cioè è un riposizionamento di prodotto quindi tutti gli asset che vengono acquistati necessitano di interventi molto forti sia dal punto hardware quindi riqualificazione dell'asset sia dal punto di vista software riqualificazione della gestione con un riposizionamento mediante brand quindi questo percorso questo traino io direi che è ormai le ipotesi che sono state ampiamente pubblicate nel 2020 quando diciamo è scoppiata la pandemia che vedono una ripresa dei flussi turistici nel 2024 sono abbastanza confermate quindi credo che prima del 2024 sicuramente non assisteremo ai ritorni dei flussi turistici che abbiamo visti nel 2019 che per l'Italia è stato un anno particolarmente positivo questo anche per l'avvicinarsi a grandi eventi che inizieranno ad arrivare diciamo in Italia e quindi l'asset class sicuramente ha un'attrazione positiva cito due operazioni che sono state fatte nel 2021 secondo me molto interessanti perché hanno iniziato una diversificazione all'interno di quest'asset class perché noi parliamo sempre di turistico alberghiero ma fino ad oggi noi per primi abbiamo sempre fatto operazioni o in grandi città o in super famous leisure destinazioni turistiche come possono essere località di montagna di mare o quant'altro nella realtà due operazioni importanti fatti da due investitori internazionali che hanno una profonda esperienza in questo settore una è Azzorra che ha comprato il gruppo Blu Serena quindi dove non c'è solo l'operazione immobiliare ma c'è anche l'operazione gestionale la seconda la piattaforma spagnola di Blackstone che recentemente ha fatto un accordo con il gruppo Mangia in Sicilia per uno sviluppo questi sono due diciamo secondo me luci importanti perché fino ad oggi diciamo quel tipo di turismo non è mai stato toccato in Italia in realtà la stragrande maggioranza degli asset in Italia turistici in località turistiche primarie e secondarie sono proprio il mercato diciamo 4 e 3 stelle chiamiamolo così per dargli un identificativo oggi inizia a vedere anche un'attrazione su quel tipo di mondo quindi credo che assisteremo a dei movimenti importanti nei prossimi anni la terza categoria di asset class è un po' collegata anche al tema del residenziale dove il residenziale turistico è molto forte oggi in Italia soprattutto in determinate destinazioni quindi credo che anche lì vedremo uno sviluppo di piattaforme dedicate al residenziale cito Meriot per esempio a livello internazionale ma ormai quasi tutti i brand hanno uno sviluppo nel residenziale molto molto forte e questo lo vedremo anche in Italia tipicamente sono prodotti che si affiancano diciamo al prodotto alberghiero puro o alla resortistica pura in cui abbiamo dei clienti che ricercano diversificazioni in termini di transazioni direi che sicuramente vedremo una crescita dei numeri nel prossimo tempo anche perché quando finirà l'effetto di moratorio finanziamenti pubblici perché Biancio dello Stato ovviamente non riuscirà più a sostenere tutti questi elementi avremo altri gruppi che arriveranno sul mercato e altri asset che arriveranno sul mercato di fatto c'è un tema però oggi in questa asset class che la finanza bancaria è pressoché inesistente e quindi ha il capitale alternativo che finanzia l'equity e si somma il capitale alternativo che finanzia il debito quindi per definizione stiamo parlando di operazioni che si posizionano sul mondo value added perché la finanza alternativa in termini di debito non è diciamo agli stessi costi della finanza alternativa che arriva dal mondo bancario grazie Gian Piero chiudiamo con l'asset class di cui hanno parlato tutti anche nelle sessioni precedenti e che è un asset class che a Milano è cresciuta molto in termini non solo di volume ma anche qualitativo e quindi chiederei a Raul come vede lui e Heinz in generale il mercato del residenziale quali sono le opportunità e se Roma può essere magari anche uno sviluppo ulteriore grazie Federico sicuramente la premessa è che come gruppo Heinz continuiamo ad essere investitori sulle asset class tradizionali quindi ovviamente uffici logistica street retail e anche hotellerie però sicuramente l'asset class nella quale maggiormente stiamo investendo in termini di risorse e tempi è sicuramente il residenziale il residenziale però inteso come in particolare built to rent quindi al di là della parte degli studentati che stiamo anche quella portando avanti e sta andando molto bene l'ottica è proprio quella di focalizzarci sul built to rent attualmente appunto focalizzandoci solo su Milano ci sono decisamente delle difficoltà dettate dal fatto che appunto a una platella come questa sappiamo che questo è un prodotto che ad oggi non fa parte del mondo degli investitori istituzionali nel senso che quel poco di residenziale affitto che ad oggi è stato presente all'interno dei portafogli dei fondi in realtà di solito derivava da degli apporti delle casse di previdenza appunto nella fase di apporto di fondi immobiliari ma quindi non prodotti nati strategicamente per quello noi come gruppo abbiamo come progetto in piedi attualmente con le acquisizioni fatte e quella in pipeline di arrivare a Milano ad avere 5.000 abitazioni è un asset class molto particolare dal punto di vista ad esempio anche dell'approccio all'investimento perché rispetto alle asset class quali possono essere gli uffici gli hotel o la logistica che hanno una fase molto time consuming nella parte dell'investimento e poi nella parte gestionale minore il built to rent è sicuramente differente perché la fase gestionale è la fase che determina il successo o meno del progetto oltre a questo che rende ovviamente l'attività gestionale molto time consuming perché come capirete bene un ufficio di 5.000 metri quadri con dentro due tenant comporta un'attività di relazione con due controparti tra l'altro controparti istituzionali il residenziale ti porta potenzialmente nel nostro caso ad avere 5.000 controparti privati con un approccio ovviamente che è totalmente diverso rispetto a quello di una controparte istituzionale noi però questa scommessa la stiamo facendo appunto partendo da Milano perché le evidenze a livello demografico di attività ovviamente prospettiche anche per quello che è ovviamente lo sviluppo di Milano ci rende assolutamente confident sul fatto che il mercato che noi stiamo cercando di andare a esplorare sicuramente assorbirà e quindi darà successo il momento dell'exit dell'investimento è un qualcosa che invece al momento ci lascia assolutamente sereni perché le evidenze sono che c'è un enorme appetito da parte degli investitori per un prodotto come quello che è il build to rent ovviamente perché sconta anche dei pregi che non sono legati a quelli degli uffici nel senso che da una parte il vantaggio ovviamente dell'ufficio che tendenzialmente è dei contratti o delle logistiche contratti blindati con una lunghezza tale che consentono ovviamente al next buyer di avere una stabilità di flussi di cassa l'approccio all'investimento sul residenziale in affitto è completamente diverso perché invece si basa su un'anticiclicità dettata dal fatto che il residenziale tendenzialmente è qualcosa che in crisi o meno la gente deve andare ad avere un'abitazione attualmente noi siamo assolutamente convinti che sia il mercato milanese che in generale poi il mercato invece degli investitori premierà sicuramente questa scelta per rispondere alla domanda di Federico per quello che è l'evoluzione futura per cui oggi siamo molto concreti e già presenti su Milano Roma è sicuramente il mercato che stiamo già guardando attivamente non abbiamo ancora fatto investimenti ma ovviamente lato nostro quello è un mercato che non possiamo non guardare collegandomi anche a quello che diceva Emanuele questa set class può sicuramente essere un qualcosa che va a aumentare i volumi degli investimenti a livello di real estate istituzionale appunto abbiamo visto che l'anno l'abbiamo chiuso con 10 miliardi siamo convinti che alla fine l'introduzione era una nuova asset class perché ad oggi effettivamente non è esistente possa anche aumentare e creare più volumi all'interno del nostro settore grazie mille grazie mille innanzitutto devo ringraziare tutti i redattori perché sono stati molto bravi hanno rispettato i tempi in maniera perfetta e questo ci consente di fare un secondo giro magari parlando di temi un po' più generali in prospettiva come abbiamo discusso ieri nella col preparatoria ci sono alcuni spunti ma non vorrei vincolare nessuno a seguire una scaletta predeterminata abbiamo parlato di volume del mercato di velocità di capitale di iscrizione disponibile dell'assenza di un mercato retail di dimensioni significative il pubblico abbiamo detto Giovanna ci ha precisato e ha ricordato che bisogna farlo bene il lavoro però sicuramente il deployment degli asset pubblici è ancora abbastanza lento come vedete i prossimi due o tre anni in generale partiamo sempre da Emanuele è una cosa difficile come vediamo di due o tre anni ci sono tantissimi temi da affrontare da risolvere nel nostro mercato giustamente ne hai citati una serie e non non si riescono ad affrontare tutti in un'unica soluzione partiamo dai macro allora la riflessione sicuramente è quella di capire come la politica la territorialità del nostro paese riescono a favorire gli investimenti che questo è un tema secondo me vecchio come me sicuramente però diventa sempre più importante cioè oggi che c'è un secondo me una strada abbastanza tracciata di dove sta andando il paese in questo momento almeno oggi probabilmente fra una settimana potrebbe essere tutto diverso quindi facciamo la fotografia oggi riuscire a fare un'interlocuzione costruttiva con il mondo istituzionale il mondo politico per dire ci fate capire qual è la visione politica del territorio in modo che noi capiamo se possiamo investire di più sul territorio stesso allora oggi è tutto molto spot che secondo me è il vero problema del nostro mercato allora quando noi facciamo operazioni su Milano su Roma su qualunque altra città che vogliamo mettere facciamo un'operazione molto limitata al singolo asset è difficile che vengano fatti interventi importanti che riescono a riguardare tutto il territorio piuttosto che tutta una comunità c'è qualche esempio ma sono veramente sporadici e pochissimi questo perché perché da un lato è più facile per noi investitori concentrarci su un unico asset per tirare fuori il massimo il profitto da quell'asset e ricordiamoci che l'investitore non ha una funzione tipicamente sociale no? il adesso non vorrei essere mai interpretato non è che non guarda l'impatto sociale al suo investimento è che non è nelle sue priorità cioè l'investitore investe soldi per ricavare un reddito quello che deve governare la piattaforma investimenti è proprio la politica quello che dico sempre se la politica ci dicesse in quella zona adesso faccio il caso di Roma perché forse è la città più confusionaria che abbiamo in Italia se ci dice il centro storico è dedicato al turismo noi siamo sereni sappiamo che gli investimenti che dobbiamo mirare quindi sarà ricettività sarà leisure sarà arte sarà cultura sarà una serie di asse class che riguardano l'investimento turistico nel centro di Roma benissimo ma questo poi lega anche tra sport sono tante cose legate su una visione chiara l'EUR è il business district di Roma e allora noi sappiamo che dobbiamo concentrare lì i nostri investimenti negli uffici in tutto quello che riguarda il mondo lavoro e se avessimo delle linee guida così chiare secondo me aumenteremo di molto gli investimenti sia degli investitori nazionali sia degli investitori internazionali perché ci sarebbe una chiarezza una chiarezza di percorso e soprattutto ogni investimento andrebbe a valorizzare un'area per portarla a un livello europeo forse è troppo però comunque sicuramente a un livello più elevato di dove sta oggi allora prima di tutti gli altri temi visto che è un momento in cui abbiamo equiti in circolazione tanta l'effetto inflattivo che per quanto venga visto negativamente ricordiamoci che l'immobiliare è un anti-inflattivo quindi se c'è l'inflazione ci va anche bene ci sono delle condizioni politiche forse sane e difficilmente le abbiamo trovate di simi negli ultimi decenni tutto questo potrebbe portare a avere un dialogo con il territorio con l'amministrazione con la politica con tutto quello che c'è al di fuori dalla nostra capacità di investimento per farci indirizzare e per farci dire quali sono effettivamente le visioni che ha la politica sul nostro territorio questo forse è il macro tema che invito tutti in una riflessione e poi probabilmente è un tema che si risolve tutti insieme l'individualismo è l'altro grosso problema del nostro mercato e quello secondo me facciamo un po' fatica a risolverlo grazie Emanuele Giovanna allora secondo me un po' collegandomi anche al discorso di avere un quadro di dove sta andando il paese poi in subordine dove vanno le regioni chiaramente le città io ho iniziato a leggere il PNR diciamo quasi bambina che praticamente abbiamo vissuto versioni su versioni è stato un percorso abbastanza lungo però leggendo il PNR mi dicevo beh questo PNR per quanto sia una lettura insomma non proprio diciamo leggera è una di quelle cose che dovremmo leggere tutti perché forse forse qua dentro si legge dov'è che il paese pensa di investire nei prossimi tre anni quattro anni cinque anni e quindi ho iniziato questa lettura abbastanza diciamo ragionata dopodiché noi non abbiamo canali preferenziali per avere informazioni sul PNR so che la cosa vi può stupire ma è così cioè quindi mezz'ora di interlocuzione con la ragioneria poi mi sono messa a studiare un'altra volta però mi sono poi anche letta tutti i bandi che stanno scendo ok quindi il portale Italia Domani presenta tutta una serie di bandi che peraltro sono fatti con logiche tutte diverse quindi neanche puoi trovare una matrice comune ti devi veramente ogni volta mettere a studiare da zero non so quanti degli investitori stanno guardando queste cose qua io ho sollecitato anche gli studi legali create un team PNR chiamate i vostri investitori e dite guardate che c'è questa opportunità perché io adesso ho messo una persona che legge questi bandi ma li leggo anche io cinema e teatri bene 650.000 euro a fondo perduto per l'efficientamento energetico quindi stiamo parlando di cultura se hai più teatri ti danno 650 moltiplicato per con un cap lo possono fare anche i privati e lo possono fare anche i gestori beh io ce l'avevo un progetto di efficientamento perché i tempi del PNR sono cortissimi quindi tu o ce l'hai più o meno già pronta una cosa del genere pure non è che ti metti a pensare aspetta adesso vediamo se ho un teatro nel mio portafoglio quindi ho fatto rastrellare quei progetti che si sposavano con questa indicazione lo so che non è proprio diciamo il miglior modo che potremmo avere di lavorare però vi faccio anche un altro esempio Sud hub dell'innovazione centri di ricerca non abbiamo fatto noi la richiesta ma l'abbiamo fatta fare al CNR ma potevano farlo anche i centri di ricerca privati abbiamo chiesto 80 milioni di euro ok siamo andati in fase 2 adesso per uscire dalla fase 2 25 febbraio scadenza il framework che dobbiamo rispettare è 380 pagine di framework immediatamente abbiamo chiamato dei professionisti che so che fanno questo mestiere in Europa e ci stiamo facendo supportare però 80 milioni di euro sono tanta roba per un fondo cioè tu stai sostanzialmente facendo un'operazione sapendo che a destinazione troverai qualcuno che tutte le milestone ti dà questi soldi diciamo che al sud per fare il secondo centro CNR più grande del sud dopo quello di Napoli adesso stiamo studiando il bando sugli alberghi è recente sono finanziamenti allo 0,5% cioè chi di noi è andato in banca a chiedere un po' di leva a una cosa che ci ho messo meno a fare mio figlio però alla fine è 0,5% no impossibile quindi 0,5% ho detto beh noi ce l'abbiamo al calbergo degli istruttori ma mettetevi a studiare cioè come dire chiediamo come diceva mio padre chiedere non costa niente al di là del tempo delle persone che bisogna mettere a studiare quindi abbiamo allertato anche gli studi legali che ci supportano per farci dare una mano allora sono sicuramente d'accordo con Canigia che il metodo più organizzato se leggete quello che c'è scritto su Roma il progetto Roma Caputmundi ha un progetto dove il PNR alloca centinaia di milioni di euro pensate Cinecittà ma perché si va a investire su Cinecittà perché avevamo tutte le major che venivano in Italia per fare dei film trovavano un set vero naturale cinematografico fantastico ma poi quando dovevano fare il back end del cinema del film che stavano girando non avevano le infrastrutture tecnologiche quindi questo vuol dire che se noi realizziamo davvero quello che c'è scritto nel PNR allora Cinecittà diventa un centro che è in grado di accogliere queste grandi diciamo società che fanno produzioni di film e oltre ad avere un set naturale invidiato nel mondo possiamo avere anche quello che serve a queste società per sviluppare poi il film allora vuol dire che lì arriveremo avremo un'industria cinematografica che arriverà allora secondo me non è il metodo più ortodosso ma abbiamo questa visibilità noi stiamo studiando il PNR come potrebbe fare qualunque SGR sul mercato lo stiamo studiando in tutte le sue declinazioni proprio perché se io oggi ho degli asset in quella zona so che in quella zona ci sarà un tipo di investimento assumo che si farà perché il fatto che ci sia il piccolo dettaglio diciamo dell'execution non è esattamente un dettaglio però noi stiamo ragionando così quindi molto bellissimo il suo intervento è Bill to Rent ci stiamo lavorando anche noi perché abbiamo tantissimo residenziale e andremo verso una locazione che non sarà più la locazione del patrimonio pubblico a prezzi diciamo amico dell'amico perché questo non si può assolutamente fare una locazione al mercato ma con una componente di servizio importante cioè quello che lui dice è veramente forse la chiave di volta del residenziale per far rinascere il residenziale non lo possiamo più confrontare con la locazione o mi compro la casa no la locazione diventa un prodotto diventa un servizio completamente diverso che non potrei più confrontare con l'acquisto della casa e allora secondo me i prossimi 3-4 anni vanno letti in questa direzione per arrivare a un mercato diciamo migliore e anche con dei volumi maggiori perché siamo oggettivamente troppo piccoli e se guardiamo cosa fa Londra Londra da sola fa quello che fa il doppio di quello che fa l'Italia tutta intera quindi credo già solo queste misure ci possano far capire quanto spazio abbiamo grazie Giovanna passerei a Riccardo anche perché se parliamo di dimensioni del mercato Riccardo ha una visibilità particolare perché avendo Preglios anche la parte che segue UTP e NPL in cui ha un 50% uno sottostante immobiliare e stiamo parlando di qualche decina di miliardi di euro diciamo di asset che non sono in questo momento valorizzati come si potrà evolvere il mercato e liberare un po' di risorse in modo che si riesca a crescere un po' di più più velocemente ma guarda ecco noi oggi abbiamo circa 40 miliardi in gestione di cui 33 sono nel mondo del credito e appunto circa metà sono nella parte con sottostante immobiliare sono numeri enormi anche ieri ci lamentavamo ma no perché comunque le SGR sono piccole è vero sono piccolissime non riescono a raccogliere capitale discrezionale il capitale l'equity in Italia secondo me non esiste dal lato istituzionale perché comunque o è già allocato oppure è over allocato nella parte immobiliare poi le logiche siamo così sono fortemente legate al mondo al mondo core perciò quando si parla di distresso si parla di un'attività che è il 90% del fatturato real estate in Italia perché poi qua insomma la parte dell'SGR l'attività di investment management è focalizzata sul 10% del mercato che sono circa 10 miliardi all'anno e l'altro 90% viene sostanzialmente abbandonato a investitori diciamo così non istituzionali perciò prevalentemente privati di cui la maggior parte sono residenze ovviamente il gruppo Prelios lavorando sulla parte di stress ma lavorando anche sulla parte dei servizi immobiliari opera anche su tutto il resto è stata una delle scelte strategiche fatte al momento del turnaround quando siamo guardati un po' nel palle degli occhi mi ha detto adesso come facciamo perché diciamo così dobbiamo pensare prima di tutto dov'è il ciclo immobiliare e il ciclo del credito perché hanno caratteristiche uguali in tutto il mondo e in tutti i mercati e perciò ripartono sempre nel mondo degli NPL ripartono sempre nel mondo degli yielding assets ma poi si evolvono perciò monto un po' più sul restructuring e sui performing nel lato crediti e poi diciamo così yielding assets value added e sviluppi nel mondo immobiliare perciò questo deve essere molto molto chiaro però ecco noi guardiamo con grandissima attenzione quello che succederà nel mondo dal lato investimenti nel mondo del retail riguardano con grande attenzione delle iniziative ormai ci sono un paio di SICAF real estate che stanno provando a raccogliere capitali dal mondo retail e quello diventa una cosa veramente interessante perché poi è lì sono di grandi volumi di investimento perché è lì dove c'è appunto il risparmio in Italia ed è lì dove una parte del risparmio soprattutto per come stanno andando i mercati deve andare sulla parte di alternative investments ed è lì che appunto una parte deve essere diretta nel mondo immobiliare e nel mondo della gestione del credito in maniera professionale certo che diciamo così il passato non è stato particolarmente brillante di prodotti che sono andati sul mercato retail immobiliari devono cambiare molto le logiche devono cambiare le logiche soprattutto di allineamento di interessi e anche di persone paolo ieri sei stato uno dei più vocal sul tema della dimensione del mercato ma guarda noi siamo concentrati sul tema debito ti devo dire la verità che secondo me è in molte asset class è il tema in questo momento equity ce n'è tanta debito l'abbiamo già detto in alcune aree è veramente poco presente quindi secondo me per diciamo velocizzare il mercato che è sicuramente uno dei temi che dobbiamo affrontare per far sì che le operazioni siano più numerose anche in diciamo in città secondarie anche con operazioni di dimensioni secondarie inferiori il tema del debito è chiave quindi noi su quello siamo molto concentrati e sono convinto che nei prossimi mesi anni entreremo in questo settore settore che secondo me sarà sempre più incentrato su delle verticali con competenze specifiche sulle sulle diverse asset class dove le banche tradizionali oggi fanno fatiche fanno anche sempre più fatiche per temi di assorbimento di capitale quindi questo è un elemento chiave per cercare di parlare non sempre soltanto di Milano e Roma entrando anche in aree diverse il tema degli UTP dell'unlocking del real estate sottostante all'UTP anche quello è fortemente guidato dalla possibilità di tirare debito in in piazze secondarie su asset secondarie quindi in prospettiva se devo pensare alla nostra società cercheremo di affiancare un business di dimensione sul credito oltre a quello tradizionale del real estate il mercato di 10 miliardi ci auspichiamo possa diventare significativamente più grande nei prossimi anni ci sarà sicuramente un reshuffle diciamo di capitale su molte asset class ad esempio abbiamo già visto quest'anno sul tema della logistica capitale opportunistico uscito e sta entrando capitale core tutto questo secondo me potrà avvenire nel settore alberghiero dove dovessimo riuscire a far crescere questo settore nel settore residenziale e così via quindi noi cercheremo di puntare su questo dove peraltro vediamo che c'è anche forse un po' meno concorrenza dei nostri diretti competitor Gianpiero qual è la tua view prospettica allora io sono un po' d'accordo con quello che è stato detto sono un pochino più scettico sulla possibilità di capitale discrezionale puro in Italia ma per due dati oggettivi il primo dato oggettivo è che i primi dieci gestori nel real estate o nel mondo dell'alternativo a livello mondiale i primi dieci gestiscono 2.3 trillion di dollari quindi hanno una capacità worldwide di presenza a livello internazionale che è difficilmente contrastabile e diciamo quasi tutti noi gestiamo parte di questo denaro in Italia quindi andare sulla parte discrezionale su quel tipo di mondo diventa entrare in concorrenza con diciamo chi oggi detiene più o meno il 60-70% delle masse che sono gestite da SGR quindi credo che continuerà a crescere bisogna far crescere sempre di più l'indispensibilità per questi investitori a lavorare diciamo con professionalità italiana e che devo dire negli ultimi dieci anni sono particolarmente cambiate sono particolarmente d'accordo con Paolo che quello che succederà nei prossimi 3-4 anni è una diversificazione della nostra attività quindi da puri gestori di real estate piano piano ci espanderemo in tutto il mondo dell'alternativo e quello del lending è sicuramente uno dei temi più importanti oggi sostanzialmente è un mercato inesistente se non per le grandi assicurazioni che comprano ticket di finanziamenti super strutturati a livello ma oggi diciamo il lending diretto sulle operazioni che più o meno tutti facciamo da 20 a 100 milioni è un'attività abbastanza inesistente il tema del retail è un tema molto delicato perché diciamo la caratteristica del retail italiano è molto differente da quello francese o da quello tedesco o da quello diciamo di altri paesi europei senza andare negli Stati Uniti il primo è che c'è una barriera d'accesso fondamentale oggi in Italia per andare sul retail bisogna passare dalle reti bancarie e le reti bancarie hanno un costo molto importante e quindi questo immediatamente crea un problema di size il secondo ordine di problema è che mentre oggi iniziamo a vedere un'apertura sul mondo diciamo degli AI network del mondo alternativo quindi sia real estate che altre tipologie di investimenti il mondo retail puro quindi diciamo la fascia dai 5 ai 20 mila euro per essere chiari è una fascia che oggi è ancora molto legata all'investimento in obbligazione che è un investimento diciamo con un carri negativo probabilmente in questo momento è al minimo rialzo dei tassi però diciamo diventa sostitutivo poi di altri investimenti perché oggi la fame per investimenti alternativi di riventa è legata al fatto che le obbligazioni sostanzialmente rendono zero appena c'è un rialzo dei tassi diciamo il capitale si rialloca molto velocemente il vero tema è che l'investitore italiano retail è abituato alla liquidità degli investimenti quindi posso realizzare in qualsiasi momento e invece diciamo il mercato alternativo non ha questa caratteristica quindi da un lato bisogna rivedere l'impianto normativo per rendere sempre più liquidi questi investimenti dall'altro c'è un DNA di base che non si può superare quindi però quello è il grande mercato perché in Italia il mercato di investitori istituzionali italiani per limiti di norma guardate le assicurazioni o diciamo gli enti previdenziali che però sono già saturi e tipicamente non hanno ulteriore spazio di crescita in questo mondo diventa solo ed esclusivamente il retail che è il mercato più grande e che tra l'altro è cresciuto molto negli ultimi 24 mesi grazie mille adesso Raul l'onore di chiudere vantaggi e svantaggi di chiudere la tavola rotonda col tuo intervento a lato mio posso dire che di sicuro c'è ottimismo perché noi vediamo sempre un appetito crescente verso il paese Italia lo vediamo anche tramite fondi panoeuropei nostri che nel tempo hanno aumentato la percentuale di allocazione sull'Italia la sfida però qual è? è che dobbiamo garantire quello che si è visto nell'ultimo periodo cioè una stabilità ovviamente quindi una stabilità che passa dalla stabilità politica ed è un po' quello che ad esempio citavamo adesso del PNRR è un qualcosa che io un po' associo a quello che è il tema della liquidità nel real estate la liquidità ce n'è tantissima ma deve trovare il giusto prodotto idem il PNRR prevede tantissima liquidità tantissime ipotesi che possono veramente far crescere il nostro paese l'importante è vedere come verrà poi messo a terra vista dall'estero l'Italia rimane un paese super appetibile non solo per il gap degli yield ma proprio per la tipologia di paese che siamo sappiamo che visto dall'estero quello che sconta l'Italia ad oggi che è un mercato prettamente concentrato sulla area di Milano alletto ovviamente alla logistica e in maniera più limitata a Roma però al lato nostro con la visione di un investitore internazionale c'è grande ottimismo io ringrazio tutti i redattori il direttore mi ha già fatto segno che siamo in time out abbiamo rispettato però la scadenza c'è un panel molto impegnativo anche che ci segue quindi non possiamo rubare gli spazi grazie ancora grazie a Monitore Immobiliare e a Re Italy grazie a Monitore Immobiliare